cioc cioc ciò zimbayong wona io sinco sul wanyo gaya dainya olemme ne kinka niong miu changtog te zeutevi nida i bonte zeuteu nam velottaisa manteu koto nyong sangin chi macionan kinka yuxili cio deuk kipionka in nida i te zeuteu nam chong b**** unim keseo ima io bonaciasi neiteo lomante uleo cio se u nida ai dio se kong gaciasin chong b**** unim chong mal chong mal kamsa casizio chong gyo mancaya ima un nenito nun calzulo keo lio sam nida kaleon deukasha number one iiiiiiiia ASALAMARANIKO ING ASALAMARANIKO NUMBER 2 NUMBER 3 NUMBER 4 NUMBER 5 NUMBER 6 NUMBER 6 NUMBER 7 NUMBER 8 NUMBER 9 NUMBER 10 NUMBER 7 NUMBER 8 NUMBER 7 NUMBER 7 NUMBER 8 NUMBER 7 NUMBER 7 Adesso ci sono molto semplici perché il genere è scusa, non è sempre il piatto, ma se non ci sono già fatti conto una cosa, perché non lo so ne so che la sua gente è scusa, ma non è sempre unico, ma non è sempre l'unico e non deve aver capito insieme si dice che è fatti conto, ma non ci sono mai ancora come unica fa un'attività che si fa ancora e stelle a rispondere, ne vedeva che non si faranno la nostra vita, ma non ci sarebbe mai più li conto e sull'agnoli ma è uno psumnida tang chenjim tequila e un sagosambu in cuolo casibsio a siba